Ciao a tutti, vediamo in questo video sei segni che il tuo coniuge ha una relazione e quindi sta per diventare un ex, anche se non lo è. Quindi è meglio prevenire che curare fondamentalmente, perché altrimenti rischi che diventi veramente un ex. Perché se poi la relazione si consolida è probabile che oltre che cornuta potresti diventare anche mazziata. Non è detto, potrebbe semplicemente cornificarti, però diciamo che anche la possibilità che ti lasci è una possibilità da un certo punto di vista concreta, quindi evita assolutamente di, diciamo, pensare che non sia una possibilità. Perché potrebbe realmente esserlo. Quindi che cosa devi fare? Allora, intanto quali sono i segnali che ti fanno capire che il tuo ex ha una relazione? Diciamo questo che, cioè che il tuo ex, che il tuo probabile ex, diciamo che il tuo coniuge ha una relazione. Diciamo che l'infedeltà, tra l'altro, sia fisica che finanziaria, è uno dei più grandi distruttori di relazioni. È uno dei più grandi distruttori di matrimonio anche. E molte volte anche i matrimoni, anche i relazioni, che possono essere solide, non resistono, si crollano, diciamo così, di fronte a una relazione extraconiugale. Ma è importante, diciamo, prima di approfondire questi segni, devo parlarti di alcuni fatti importanti, che potrebbero anche essere un po' inquietanti per te, indipendentemente dalla situazione in cui ti trovi. Diciamo che il fatto numero uno è che il tuo partner potrebbe manifestare tutti questi segni e ancora non tradirti, e magari essere però predisposto a tradirti. Quindi non è detto che se tu noti questo, però sicuramente c'è una predisposizione, quindi puoi ancora salvare capre e cavoli. Il secondo fatto è che, come tutte le cose nella vita, non è che è certo il mille per mille. Il tuo partner potrebbe, diciamo, non dimostrare nessuno di questi segni, anche se le probabilità sono basse, davvero, e magari tradirti. Quindi, diciamo, come tutte le cose a livello non verbale vanno, diciamo, analizzate nel momento giusto. Ci sono persone, per spiegare questa cosa, che sono talmente abili nel mascherare le cose, che sono così bugiardi, diciamo, che riescono a mascherare tutto. Quindi, se i segni non vengono dimostrati, ma ti tradisce, perché hai a che fare con una persona veramente subdola, veramente abile nel manipolare la realtà. Questo è fondamentale. E si tratta di persone veramente molto malvagie, quindi che varrebbe la pena chiudere se scopi poi che ti tradisce. Ma passiamo a queste, diciamo, a questi sei segnali che ti fanno capire che ci sono probabilità che il tuo partner probabilmente diventerà presto un ex, cioè inizierà a tradirti. Beh, il primo è che il rapporto con il tuo coniuge si aggrava facilmente, cioè lui litiga costantemente con te su cose apparentemente banali. Questo può essere un segno che qualcosa si sta preparando nel profondo. Quindi se sta facendo qualcosa come se tu, cioè se si comporta in modo tale come se tu non potessi fare nulla di giusto, o semplicemente che tu sei diventato una persona che non soffre più e che quindi continua a litigare manifestando in sofferenza, questo è perché, diciamo, sicuramente è probabile che abbia intenzione di tradirti che lo stia già facendo. E quindi si va a preconfigurare una, come dire, delle motivazioni. Si va a creare delle motivazioni. Quindi mantieni la calma e cerca di entrare in merito, di capire ma perché ti stai comportando così, ma qual è la situazione. Insomma, è molto importante questo. Secondo segnale è che il tuo coniuge sta diventando emotivamente distante da te. Se il tuo coniuge si comporta in modo ancora più tranquillo, più riservato, distaccato, come se tu fossi trasparente, non litiga ma non gioisce, diciamo, diventa indifferente a tutte le cose, beh, questo è un segnale molto forte che potrebbe essere un segno che, insomma, è già concentrato, è già con la testa da un'altra parte. Questo sì che è un segno che probabilmente presto diventerà un ex. Cerca di produrre qualche emozione, cerca di capire che cos'è che non va e prova a dirglielo anche. So che c'è qualcosa che non va e vorrei veramente parlarne, vorrei veramente capire cos'è qualcosa che non va, perché molte persone fanno, sembra anche che non capiscano che c'è qualcosa che non va. Un altro segnale è che inizia a lavorare di più. Ti dice, ah no, ho una riunione di lavoro, ho una riunione qua, ho una riunione là. Lavora oltre al normale orario di lavoro, no? Questo potrebbe anche essere un segno che ha l'amante, diciamo così. Se inizia a fare strani viaggi di lavoro, che magari comprendono anche il weekend, che prima non faceva, beh anche questo è un segno forte che ci può essere un'altra relazione, un'altra relazione già in corso in questo caso. Un quarto segnale è se il tuo coniuge, il tuo partner, vuole più spazio. Se ti chiede insolitamente spazio per respirare, se dice che si sente un po' chiuso, puoi star certo che qualcosa, diciamo, di fatto sta succedendo, puoi star certo che di fatto qualcosa c'è. E daglielo, ovviamente non bloccare, ma monitorizza, cerca di capire cosa c'è. Prima o poi, diciamo, riuscirai a capirlo fondamentalmente. E un altro segnale è se il tuo partner cambia abitudini. Se il tuo partner cambia abitudini, anche qua, diciamo, prima era tutto abitudinario, adesso dice no, guarda, oggi non riesco, all'ultimo momento cambia, cambia planning, cambia coso, è un'altra cosa fondamentale, è un altro segnale fondamentale. E infine l'ultimo segnale è quando, diciamo, prende più cura di se stessa o di se stesso. Improvvisamente ha un look più accattivante, magari inizia a fare un'attività fisica che prima non faceva, insomma fa un sacco di cose per migliorare se stesso, ma poi, diciamo, non per te, tra virgolette, perché con te poi si comporta sempre in un suo modo, ma come se, diciamo, volesse piacere a qualcun altro. Ecco, tutti questi segnali ti fanno capire che probabilmente c'è una new entry nella sua vita. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Trammasco Ufficiale, su TikTok. E ti ricordo di iscriverti al canale. Iscrivendoti al canale attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo.